Si è aperto a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, lo screening a tappeto della popolazione nell'ambito della campagna della Regione Toscana a territori sicuri, dopo i casi di variante brasiliana che sono stati rilevati nei giorni scorsi. Un modo per individuare eventuali casi asintomatici di Covid e così tracciare i contatti stretti. 4.000 le persone che si sono prenotate fino a venerdì. Presente il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, il Direttore Generale dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo, il Sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni. Monteroni d'Arbia è uno dei luoghi attenzionati dalla Regione proprio per l'evolversi del contagio e per la presenza di varianti Covid. Saranno proprio i primi risultati che valuteremo già da domani a dirci se è opportuno con il livello di isolamento massimo la zona rossa o se invece i risultati dello screening, come è accaduto ad esempio a Sansepolcro, ci hanno più tranquillizzato sulla limitazione dei casi e quindi in quel caso invece che la zona rossa abbiamo chiuso le scuole e ci siamo fermati a quel provvedimento. Gianni ha voluto sottolineare che nonostante l'incremento dei contagi da Covid-19 registrato è probabile che la Toscana resti in zona arancione anche la prossima settimana. Una Toscana che è in zona arancione che probabilmente rimarrà in zona arancione dai primi dati che leggiamo dei risultati su scala regionale ma che è pronta a provvedimenti più restrittivi in modo chirurgico su zone laddove sia magari più presente la variante, quella brasiliana è la più pericolosa, quella sudafricana di conseguenza. I risultati fra domani e domani all'altro ci diranno che cosa è opportuno fare. Nei prossimi giorni la campagna Territori Sicuri farà tappa a Ponte Bugianese in provincia di Pistoia. Intanto è arrivata una nuova fornitura di 44.460 dosi del vaccino Pfizer, 30.000 dosi saranno subito destinate per le prime somministrazioni di vaccino agli ultraottantenni, le restante saranno riservate ai richiami.